Sono Thomas Botteomo, ho partecipato al corso in dicembre 2008 ed ho deciso di rifarlo oggi per i cambiamenti immediati che ho riscontrato nella mia vita. Infatti nel mio caso, il metodo del dottor De Martini, è stata una reale possibilità di crescita personale, un'opportunità per capire quanto amore ed equilibrio ci sia nella mia vita, un modo pratico per dissolvere conflitti e rancori passati. Infatti sono riuscito a capire quanto delle situazioni che consideravo negative in realtà mi siano servite ed ho imparato ad amarle in modo incondizionato. Ringrazio per questo il dottor Howard Weide e il dottor Lenda Skorians per la loro dedizione a questi insegnamenti.